buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi mercoledì 31 maggio 2017 questa è la resegna stampa daremo un'occhiata ai giornali in diretta come tutte le materine dal lunedì al sabato allora cominciamo dal santo in realtà oggi la chiesa cattolica ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria la mamma di Gesù che visita la cugina Elisabetta lo ricordiamo nel secondo mistero della gioia il sole è sorto alle 5.28 e tramonterà alle 20.43 allora andiamo subito a vedere il bollettino meteo della protezione civile delle marche che per oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso avremo temperature molto alte quindi in aumento già alle 6 di questa mattina erano 20 gradi perlomeno qui a Fano sulla costa poi aumenterà oggi toccheremo i 30 gradi poi per la giornata di domani invece giovedì primo di giugno è insomma si guasta un po' il tempo avremo possibilità di isolati rovescio temporali nelle zone dell'entroterra quindi le zone montane però tutto questo maltempo poi si sposterà verso la fascia collinare dovrebbe essere salva la costa anche se avrà della nuvolosità sparsa temperature in lieve diminuzione nei valori massimi allora il tempo per venerdì 2 giugno invece eccolo qua ancora precipitazioni al primo pomeriggio isolati rovesci temporali sulla fascia collinare ma non si escludono piovaschi anche nella zona di Ancona, zona del Conero le temperature sono senza variazione di rilievo il tempo comunque sarà buono i prossimi giorni allora i giornali che prendiamo in esame tutte le mattine sono quelli del Carlino il Corriere Adriatico, le edizioni di Pesaro Urbino e questa mattina c'è spazio per tanta cronaca e cominciamo da Fossombrone dove ha perso la vita un 42enne titolare di una concessionaria di moto una persona molto conosciuta, molto ben voluta stiamo parlando di Filippo Morelli, lo vedete in questa fotografia con gli occhiali da sole ha avuto un incidente ieri con lo scooter sul quale viaggiava si è scontrato con un'auto, l'auto stava girando a sinistra lui si è accorto probabilmente all'ultimo istante che stava svoltando appunto sulla sua sinistra ha tentato di sorpassarla ma è stato un azzardo fatale, gli è costato la vita ed è morto dopo l'arrivo all'ospedale regionale di Torrette di Ancona il 42enne infatti scrive il giornale non si è accorto in tempo appunto che l'auto rallentava i sanitari hanno dovuto lavorare quasi un'ora per adegiarlo sull'elicottero è successo intorno alle 11.15, ieri mattina poco lontano da Ponte degli Alberi all'altezza dello stabilimento della BFB Cucine un incidente appunto mortale mentre sul Corriere Adriatico la stessa notizia viene riportata a tutta pagina a pagina 10 Fabrizio Morelli dell'omonima rivendita di moto di Fossombrone ha perso la vita in un incidente sulla Flaminia stava sorpassando un'auto quando è sbandato finendo contro un muretto è deceduto in ospedale, aveva 42 anni appassionato Centauro aveva già organizzato il tour per il Mugello aveva sempre la battuta pronta per chiunque si presentasse per avere un solo consiglio la sua passione per le due ruote era cresciuta con lui da giovanissimo la fotografia in questa pagina del Corriere Adriatico di Fabrizio Morelli e subito a fianco invece quella dei soccorsi con l'elicottero che è atterrato in mezzo alla carreggiata poi c'è un'altra vittima che è deceduta dopo 10 ore di agonia un ciclista, Loris Loris Filippetti di 52 anni ciclo amatore di Monteporzo che è stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio dell'altro ieri mentre pedalava sulla strada provinciale 5 bis che collega la frazione mondaviese di San Filippo sul Cesano a Dorciano troppo gravi le ferite del 52enne ex calciatore disperato l'investitore che dice mi pare un incubo da cui presto mi risveglierò ma è tutto maledettamente vero la foto della vittima in questa immagine e l'auto invece con il parabrezza sfondato sempre su questa tragedia della strada anche il Corriere Adriatico con un'altra fotografia di Filippetti di Loris qua sotto allenava i portieri della locale squadra l'incidente sulla salita di San Filippo e dunque tutta Monteporzo piange mister Loris l'automobilista sarebbe stato tratto in inganno dal sole domani ci saranno i funerali Mecozzi, l'omeopata il medico omeopata che aveva in cura il piccolo Francesco morto per una otite non curata la notizia pubblicata sul resto del Carlino è che Mecozzi è già tornato operativo la procura intanto sviscera il suo cellulare che gli è stato sequestrato dove avrebbe cancellato anche il video che la mamma di Francesco gli ha inviato proprio per fargli capire per dimostrargli che suo figlio stava molto molto male un bambino c'è anche questo precedente inquietante che racconta il resto del Carlino questa mattina un bambino appunto da un'ape i medici hanno arginato appena in tempo l'infezione scrive sempre sul giornale questa mattina dunque Roberto Damiani ha telefonato al nuovo numero di telefono del dottor Mecozzi perché? perché a un certo punto ha dovuto prendere una decisione tornare a lavorare oppure starsene fermo ha deciso di tornare a lavorare ha preso un nuovo numero ha inviato un messaggio attraverso Whatsapp a tutti i suoi clienti e ha detto io sono pronto circa 3.000 clienti poco meno di 3.000 pazienti scrive il giornale questa mattina dice sono tornato ha inviato un messaggio e al telefono dicevo il giornalista ha chiamato dice è tornato al lavoro certo da oggi ho ripreso che sintomi ha? si è chiesto quando poi gli abbiamo detto di essere giornalisti ha interrotto il dialogo dicendo di dover obbedire alle indicazioni del proprio avvocato parlo solo con i pazienti ha detto lui questa è la pagina del Corriere del resto del credito Corriere Adriatico invece bimbo morto per otite esperto informatico a caccia del video della mamma cancellato altri testimoni ascoltati dalla procura tra cui il medico del 118 sul diverbio avuto con l'omeopata confronto tra professionisti Mecozzi verrà convocato la prossima settimana dal suo ordine l'ordine dei medici ancora dalle pagine locali apriamo adesso quella di Fano del resto del Carlino perché c'è quest'altra notizia che riguarda un tentato suicidio evidentemente perché? perché un fanese un uomo di 32 anni celibe senza lavoro l'altro ieri sera intorno alle 22 è andato a Falcineto in viatorno ed è salito su questo tralicio che vedete nella fotografia di 7-8 metri e poi si è aggrappato ai fili dell'alta tensione potete immaginare quello che è successo fallito il primo tentativo ha cercato di raggiungere un corso d'acqua a Cerbara lì c'è una piccola diga e pare che avesse detto appunto a un poliziotto che lo ha fermato che lo ha rintracciato dopo una serie di ricerche notturne che voleva andarsi che voleva buttarsi nell'acqua e voleva annegare questa è la cronaca del fatto accaduto ieri l'altro notte a Fano anche il Corriere Adriatico naturalmente mette in risalto questa notizia sale sul tralicio folgorato e salvo la scossa elettrica presa dal 30enne alle 21.30 ha causato un blackout tra Falcineto e Carrara l'uomo miracolato anche nella caduta da quasi 8 metri ritrovato ferito e in stato confusionale è stato salvato soprattutto da questa rete metallica di recinzione la vedete perché ha tutito certamente dopo il volo di 8 metri ha tutito insomma la caduta a terra la scomparsa da casa era stata segnalata alle 20.30 dietro al gesto ci sarebbero disagi psichici la pagina di Fano invece del Corriere è per scusate i cavalcavia cavalcavia diversi stesso protocollo per gli interventi così siamo sicuri punti di chiarucce e bellocchi sotto controllo l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi del comune di Fano dice sul primo lavorerà l'ANAS sapete in questi ultimi giorni alcuni crolli alcuni calcinacci il primo quello a cui si riferisce la fotografia pubblicata sul giornale il cavalcavia vicino al casello autostradale l'altro giorno è stato chiuso addirittura il casello per diverse ore un disastro per quanto riguarda anche la viabilità casello in entrata e in uscita della 14 chiuso l'altro invece è vicino a Falcinetto la cooperativa Falcinetto in quel punto ancora un calcinaccio si è staccato in un altro ponte ha centrato una piccola macchina e insomma anche lì verifiche stabilità e quant'altro pare che insomma sia tutto regolare però sai di questi tempi meglio essere più prudenti visto come stanno andando le cose allora andiamo adesso sull'altra pagina la Movida le serate danzanti le feste in spiaggia si discute tanto in questi giorni sulla decisione sui sigilli per meglio dire posti ad un locale molto noto molto famoso a Fano lo Sciale del Mar allora musica lo Sciale del Mar c'è l'ok della commissione cioè c'è l'ok per fare quello che hanno fatto fino all'altro giorno dunque restano i sigilli si attende la decisione adesso del giudice nulla di nuovo e di diverso dallo scorso anno dice il sindaco Massimo Seri sulla vicenda dello Sciale del Mar Massimo Seri che stizzito insomma ha detto subito che questa cosa non gli piaceva questa decisione di mettere i sigilli non gli è andata giù non l'ha digerita la commissione ha dato parere favorevole di Massima per cui sulla scorta di alcune prescrizioni che i titolari del locale devono comunque ottemperare giovedì sera lo Sciale potrà riaprire e si potrà anche anche ballare le reazioni di Capecchi della Confcommercio perché poi alla fin dei conti di questo si tratta di turismo di soldi di giro economico invita a guardarsi attorno e parla di violazioni che in giro ce ne sono e ce ne sono anche di peggio di quelle che sono state contestate allo Sciale del Mare anche il Corriere Adriatico scrive lo Sciale resta ancora chiuso ma in cassa il sì del Comune il giudice si è preso altre 48 ore di tempo per esaminare i documenti autorizzazioni permanenti ok della commissione con il sì del sindaco Massimo Seri e poi c'è l'intervento della politica con il forzista Stefano Merisola che dice locali sottotiro mentre il Grizzly fa tutto senza leggi lo spazio autogestito che si trova vicino al campo d'aviazione a Fano la cronica sulla pagina di Pesaro ubriaco travolge una coppia di coniugi lui Alessandro Rossi del posto è grave miracolato invece il nipotino che era in auto ecco le fasi dei soccorsi è successo alle 19.10 di ieri pomeriggio in via Roma a Tavuglia la prima pagina del Corriere Adriatico invece danno fuoco alla prigione stiamo parlando del carcere di Villa Fastigi rivolta nel nome di Allah 5 nordafricani si sono barricati minacciando di morte la polizia penitenziaria è successo dicevo nel carcere di Villa Fastigi una rivolta con tanto di bombolette infiammate e lamette brandite nel terzo braccio della struttura che sarebbe potuta finire molto peggio se non fossero intervenuti gli agenti compresi quelli di riposo 5 nordafricani in pieno ramadam hanno superato i limiti della protesta partita dall'olio d'oliva loro volevano più olio d'oliva per fare il ramadam evidentemente non sono stati accontentati e quindi è partita e scattata la protesta poi vedete a centro pagina invece lo schianto in scooter con la drammatica scena del luogo dell'incidente a Fossombrone con la moto lo scooter di Fabrizio di Filippo Morelli della omonima rivendita di Fossombrone che poi lo ricordiamo è morto in ospedale dalla pagina di Urbino patto tra università e fiamme gialle guardie di finanza c'è il master per formare i finanzieri siglata la convenzione le attività saranno disponibili a partire dall'anno accademico 2017 2018 la rocca malatestiana di Fano è stata riaperta ristrutturata e dentro la fortezza c'è a quanto pare un tesoro ci sono mosaici cucine e addirittura angoli segreti importanti scoperte archeologiche durante i lavori di consolidamento resagibile anche la rocchetta nella pagina della valle del Cesano invece si parla di sanità con il duo Baldelli-Bonci Baldelli è il sindaco di Pergola Bonci quello di Fossombrone i quali dicono ora rilanciamo il patto di piagge Baldelli-Bonci è un asse di ferro i due sindaci pronti a dare battaglia contro la regione in prima persona che cos'è il patto di piagge non stiamo qui a ricordarlo però sostanzialmente è quello che dice no all'ospedale unico sì invece al ridare vita un po' a tutti questi ospedali che stanno morendo secondo la tesi dei sindaci di molti sindaci dell'entroterra stanno morendo piano piano e ce l'hanno con il piano sanitario regionale che tra l'altro dicono i due sindaci ha cancellato il tema dell'emergenza urgenza praticamente in tutto l'entroterra non esiste più un pronto soccorso da Sasso Corbaro a Pergola passando per Fossombrone e Cagli come sindaci riceviamo le denunce quasi quotidiane dei gravi disservizi della sanità da parte dei nostri concittadini ma anche da parte di cittadini e di altri comuni chiudiamo con la pagina di Senigallia la cronaca con questo incidente infortunio sul lavoro che poi è un incidente mortale sul lavoro sale sul tetto per riparare un'antenna un tecnico scivola volo fatale di 15 metri shock ieri mattina in via Pasubio non c'è stato scampo per Massimo Schiaroli morto a 45 anni funerali si terranno a Marzocca di Senigallia dove viveva con la moglie e la figlia la frazione sotto shock per la disgrazia un medico lo ha visto si è affacciato lo ha visto a terra ha cercato di rianimarlo ma è stato tutto inutile poi invece vedete l'altra notizia sotto non risponde al telefono era morto da una settimana un 79enne che viveva solo in via Carracci nella zona industriale della Cezanella sempre a Senigallia è stato il nipote a trovarlo seduto sulla poltrona con la testa riversa su un tavolino privo di vita era lì fermo morto da una settimana il cosiddetto dramma della solitudine è tutto noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito vi ricordo questo numero per le vostre segnalazioni anche con Whatsapp noi ci vediamo questa sera con il telegiornale e occhio alla notizia buona giornata a tutti grazie a tutti